Applauso, siamo rientrati, siamo rientrati. Signore e signori, puntata di Qui CSI, adesso siamo qui perché vogliamo parlare dell'Unione Sportiva Edolo. Un applauso, una delle società sportive più longeve. E mi diceva il Vice Presidente Mauro Trotti, che è qui e che saluto, grazie per essere qui con noi questa sera. Grazie a voi. Che la società sportiva praticamente c'è da 50 anni all'incirca. Sì, dagli anni 50 alcune persone hanno iniziato a fare volontariato in questo senso. Però il gruppo è 23 anni. Il gruppo nostro attuale è dall'87 che svolgiamo questo tipo di attività. Da tanti anni attivi in paese sempre con lo stesso entusiasmo? Penso sempre lo stesso entusiasmo anche perché comunque abbiamo sempre anche delle soddisfazioni. Voglio dire, vedere i ragazzi che si divertono, i genitori che ovviamente bisogna un attimino magari cercare di invogliarli a collaborare, ad accompagnare i loro figli. Però questo ci dà tutta una serie di motivazioni per continuare a proseguire. Ecco, mi hai già risposto alla seconda domanda. Quali sono le soddisfazioni raccolte? Ed è vedere questi giovani sempre contenti. Esatto, vedere che si divertono, giocano più che altro, facciano gruppo e amicizia insieme anche a altre realtà sportive, alle altre associazioni. Voi siete una società sportiva molto attiva, attività sportive praticate, attività motoria, ricreativa, bocce, calcio, ginnastica, attività porisportiva. Ma non solo, impegni nel campionato di CSI ma tante tante iniziative. Sì, noi collaboriamo nel sociale, anche con l'oratorio e questo ringrazio il nostro curato Don Federico, che è anche consulente della nostra società sportiva. Ovviamente poi cerchiamo di collaborare con, anche a questo motivo, volevo anche ringraziare, se mi è permesso, anche gli sponsor e i collaboratori esterni, quali altri ragazzi che non sono nel nostro direttivo ma che comunque ci aiutano con le squadre di calcio, con le squadre di pallavolo, negli allenamenti e aiutando i nostri dirigenti come Robertino che è qua con noi per svolgere l'attività sportiva. È importantissimo la collaborazione e degli sponsor ma soprattutto dei genitori, dei genitori dei ragazzi. Due squadre di open a sei giocatori, una squadra under 14 calcio, bocce, insomma 108 tesserati. Il presidente Gianluigi Festa che abbiamo nell'altra sezione e il vicepresidente Mauro Trotti. E qui questa sera con noi c'è anche il responsabile tecnico Roberto Beltracchi. Esatto. Benissimo. Buonasera, grazie e grazie a voi. Grazie per essere qui presenti. Applauso, qua ci vuole sempre un applauso per...